Grazie a te a volume alto nella macchina che corre in tangenziale uno tosto per moltiplicare l'effetto della caffeina tipo creepy e radio Buonasera amici ed amiche di montediprocida.com ci troviamo qui a Villa Cirillo per la presentazione del terzo libro della rassegna Maggio dei Libri oggi presentiamo il libro Quando avevo 20 anni di Ettore De Lorenzo siamo con l'autore, buonasera Ciao a tutti Ettore De Lorenzo, noto volto di Buongiorno Regione testata del Tg3 Campania giornalista, saggista insomma sono io a essere onorato di intervistare lui no, ritornando a bomba sul libro anzi a bomba proprio perché l'argomento è proprio questo un libro che ripercorre gli ultimi 20 anni dalle due stragi che hanno cambiato l'Italia ripercorrendolo con interviste insomma questi 20 anni cosa è cambiato oppure cosa non è cambiato? Eh, una domanda da 100 milioni di dollari negli ultimi 20 anni è cambiato tutto ma soprattutto 20 anni fa è girata la storia di questo paese e quindi questo libro è il tentativo attraverso una narrazione molto particolare anche originale perché passa sia attraverso una serie di interviste ma è una sorta di flusso di coscienza nel senso che è veramente un racconto dove anche per avvicinare i ragazzi io metto in primo piano anche la mia stessa esperienza personale da ventenne e da giornalista che poi ha percorso questi ultimi 20 anni cosa è successo 20 anni fa e cosa i ragazzi che oggi hanno 20 anni o anche meno non sanno di quello che è successo le stragi di mafia ma non solo le stragi di mafia nelle quali morirono appunto i giudici Falcone e Borsellino e gli agenti della scorta ma non solo sono stati gli anni in cui qualche anno prima era caduto il muro di Berlino nell'89 erano gli anni di Tangentopoli in cui sono stati in qualche modo rasi al suolo tutto il sistema dei partiti tradizionali delle famiglie tradizionali europee e poi era l'inizio dell'era digitale cioè 20 anni fa questo che voi state facendo con una telecamerina così piccina e questo microfono non era assolutamente pensabile che ci volevano macchine che costavano decine e decine di milioni anzi erano le lire all'epoca decine e decine di milioni oggi tutto questo è possibile siamo nell'era della smaterializzazione i ragazzi che oggi ci vivono dentro non hanno coscienza di come ci si è arrivati a tutto questo questo libro attraverso appunto esperienze personali interviste a personaggi che avevano a che fare col mondo di Falcone e Borsellino quindi giurici magistrati ma non solo intellettuali, cantanti, artisti quindi anche persone che in qualche modo sono facilmente riconoscibili dai giovani penso a Caparezza a Frenchiai Energy a Pieraccioni a Diego Bianchi Zoro sarebbe o anche al regista Daniele Vicari il regista di Diaz che ha raccontato uno spaccato della nostra storia ovvero il G8 di Genova il modo in cui i ragazzi furono respinti come dire una sorta di ribellione dei ragazzi fu respinta a manganellate insomma tutto questo è un piccolo viaggio per spiegare ai ragazzi qual è il mondo in cui vivono e perché vivono in questo mondo com'è nata la loro storia insomma e quindi si rifà esattamente agli anni in cui più o meno loro nascevano un viaggio che lei ha intrapreso insieme a come diceva lei numerose interviste a personaggi noti c'è un'intervista oppure un'aneddota in particolare che ci vuole raccontare nel libro le interviste sono diverse la prima intervista è all'ex magistrato Luigi De Magistris oggi sindaco di Napoli ma non davvero molti hanno detto il sindaco di Napoli la parte politica invece io ho inteso intervistarlo per un aspetto che non ha nulla a che vedere come dire con la sua attività politica ma invece con una con un episodio della vita di De Magistris quando era un giovane magistrato anzi era un giovane studente che faceva l'esame in magistratura e lui De Magistris racconta in un'intervista molto molto anche toccante che lui ha consegnato gli ultimi elaborati del testo scritto per l'esame per entrare in magistratura il 22 maggio del 92 e in commissione c'era Francesca Morvillo la moglie di Giovanni Falcone e lui racconta di aver visto insomma di aver salutato la Morvilla aver consegnato il suo elaborato e aver consegnato poi aver salutato Francesca Morvillo e averla vista entrare nella croma dove c'era Giovanni Falcone quella stessa croma che 20 ore dopo sarebbe saltata in aria a Capace e quindi come dire c'è una un'esperienza diretta che ha segnato la vita da magistrato e da essere umano di De Magisi così come l'ha segnata a tanti di noi che all'epoca erano più o meno ragazzi e che davanti a quella a quelle stragi hanno come dire sentito un moto di ognuno poi l'ha vissuto in una maniera diversa rassegnazione sgomento rabbia in ogni caso tutti quelli che avevano più di 10 12 anni ricordano esattamente cosa stavano stavano facendo in quel momento perché è stato un momento che ha segnato la vita di tante persone parlavamo prima anche della magistratura una magistratura che negli ultimi 20 anni anche ha subito un'evoluzione o forse qualcuno vuole dire un'involuzione si è passata a magistrati idolatrati come potevano essere anche Falcone e Borsellino a magistrati che al giorno d'oggi vengono denigrati e tacciati di non essere obiettivi lei cosa pensa in merito? tema complesso però mettiamola così da 20 anni noi viviamo una grande anomalia è inutile girarci intorno l'anomalia è quella di un signore che ha inventato un partito mi riferisco all'ex presidente del Consiglio Berlusconi a che ha scompaginato le famiglie tradizionali della politica italiana e da quel momento in poi ed erano anche gli anni di Tangentopoli quindi gli anni in cui oltre a Falcone e Borsellino idolatrati c'erano anche altri giudici come Borrelli come D'Ambrosio come Davigo come Di Pietro da lì in poi purtroppo il sistema è diventato sempre più fragile proprio a causa di un'anomalia che era all'interno del sistema istituzionale naturalmente questa anomalia ha creato una frattura perché nel momento in cui non viene regolarizzato un conflitto di interessi palese a tutto il mondo non soltanto a noi lo scontro fra poteri istituzionali e costituzionali è diventato sempre più forte fino al punto da usare strumentalmente questa o quella istituzione per fini puramente politici questo è purtroppo una deriva a cui siamo arrivati che sta danneggiando tutto il paese e che mi auguro un giorno davvero possa terminare in modo che ognuno torni a fare quello che deve fare il Parlamento faccia le leggi i magistrati giuricano e investigano su presunti o eventuali reati ma ognuno deve tornare nel proprio rango a fare il proprio mestiere finché c'è questo conflitto così forte gli sconfinamenti saranno inevitabili e come dire le conseguenze purtroppo sono terribili per tutti ringraziamo quindi Ettore De Lorenzo ottimo giornalista e ottimo saggista e vi invitiamo a leggere il suo libro quando avevo 20 anni tutti voi vi auguriamo buona serata buonasera grazie buonasera è una cosa in particolare questo libro è rivolto ai ragazzi io invito veramente tutti il libro costa veramente poco ed è stato fatto apposta anche proprio per avvicinare i ragazzi ed è anche un inno di fiducia ai ragazzi in un momento in cui ai ragazzi si dice che non avranno mai lavoro non avranno mai pensione saranno precari a vita insomma c'è un pessimismo molto forte che grava sulle spalle dei nostri figli e dei nostri ragazzi attraverso questo libro ho voluto anche dare un messaggio di speranza molto forte e di fiducia soprattutto perché senza i sogni dei ragazzi non andiamo da nessuna parte grazie a tutti e buona serata buon proseguimento